ciao Donali Ibra di testa nella zona di Orighi mette il fisico bene, lavora Orighi, lavorerebbe Ibrahimovic Adli palla interessante per Salem Akers si propone Teo in area Teo Hernandez Teo Hernandez con violenza per il 2 a 1 c'è poco tempo cambia però il risultato supersinistro di Teo Hernandez Conclusione prepotente qui del capitano del Milan Calcia in maniera perfetta tempo, potenza, direzione c'è tutto nel sinistro di Teo Hernandez Allunga la striscia di gol subiti in casa la Fiorentina, unico rammarico della serata probabilmente calcio la striscia di oliva la striscia di oliva calcio 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.